amici e amiche di pt icon un caro saluto la stampa che abbiamo scelto oggi tra quelle commissionate dai clienti appartiene a un cliente di Udine ed è una riproduzione della stampa Ukiyo E di Katsushika Okusai ora che abbiamo letto tutti questi nomi complicati spieghiamo Ukiyo E come ho già avuto occasione di dire è un sistema di stampa litografico giapponese e quindi ogni colore aveva la sua matrice e poi sovrapponendole esattamente ed è questa la meraviglia di queste stampe venne fuori il quadro completo in questo caso Okusai ha voluto disegnare la Fenice la Fenice la conosciamo anche noi qui in occidente ma è un po' diversa la Fenice occidentale ogni 500 anni sale sul nido si auto incendia e dopo poco risorge dalle proprie ceneri mentre invece quella orientale in particolare giapponese non si brucia e non risorge ma è un animale pieno di gemme con piume stupende come possiamo vedere che indica l'inizio di una nuova era quindi un rinnovamento è un po' lo stesso significato di quella occidentale ma diverso nel senso che come già detto questa Fenice non brucia e non risorge la stampa in carta a mano di Amalfi come nostra tradizione verrà poi numerata timbrata e firmata personalmente prima della spedizione i colori come potete vedere sono veramente stupendi sembra un quadro appena dipinto amici e amiche vi do appuntamento per la prossima stampa pit icon magari la vostra ciao ciao ciao